Poi da lì sono andato a Madrid, idem, poi alla Lazio, ho vinto la Coppa, poi all'Inter, cioè sono squadre che da lì in poi avevo quella mentalità che vuoi vincere, devi far fatica, tutti quanti insieme, capito? Poi alla fine sono stato a Senna all'Inter e sono stato addio all'Inter io, dove sono stato di più, dove mi sono divertito di più, dove ho vissuto di più anni anche dopo calcio, quindi sono innamorato di Milano, sono stato addio con l'Inter, io volevo giocare con Ronaldo, quindi quando sono arrivato era una coppia che dovevamo fare di tutto, spaccare tutto, ci siamo spaccati noi. Però delle emozioni incredibili che porterò dietro tutta la vita.